Ci sono una notizia positiva e una non positiva, diciamo che tra il Barbato e il Crocchiante che la settimana prossima comincia a lavorare con il gruppo e anche penso Nene che ancora la settimana prossima comincerà a lavorare un po' nel gruppo, un po' di più, quella negativa è che Alessandro Piu perché ha preso una bella botta sulla caviglia e quindi in un contrasto di gioco, fortuito chiaramente, dispiace un po' perché lui stava bene, stava rientrando molto bene, però l'aspetteremo e quando rientrerà ci darà una mano importante per il finale di stagione. Mentre la notizia positiva è la prima convocazione di Giannetti che negli ultimi due giorni si è allenato interamente con il gruppo, chiaramente è indietro di preparazione, però è una risorsa per noi importante e cercheremo di intanto portarlo con noi e stare con la prima squadra. Ma intanto è tornato un allenatore bresciano a Brescia e quindi grandi motivazioni, allenatore esperto che ha voglia di far vedere, chiaramente, soprattutto ai suoi giocatori, di dargli la tranquillità e le giuste motivazioni per venire fuori da questo momento magari negativo che hanno loro. Però, a prescindere dalle loro motivazioni, noi dobbiamo guardare, soprattutto noi stessi, abbiamo due trasferte, la prima più importante, secondo meglio, bisogna cercare subito di imporci nel modo giusto per andare a Brescia con il giusto atteggiamento e andare in campo e scendere in campo sempre per vincere.